Ciao a tutti, benvenuti nel centro uomo e coltivi di Campiglia. Quest'oggi partiamo dal più piccolo, e cioè il grano saraceno, appena germinato, da pochissimo. Passiamo poi all'orzo, invece, che già da questa primavera è stato seminato, il frumento, che inizia già a maturare qualche spiga, inizia già a riempirsi e pian piano diventare sempre più grossa, e la regina di tutti i cereali di montagna, la segale. Grazie a tutti.